Ma Dele, allora questo tartufo sembra essere veramente una risorsa inestimabile del vostro territorio? Grande testimonial di tutto il nostro territorio, metto dentro anche Fano e la zona costiera perché la nostra provincia ha grandissime risorse. Alcune ci vengono fornite anche dalla nostra terra e quindi il tartufo diventa un ambasciatore di tutta la nostra provincia, dico di tutta la nostra regione con l'eccellenza delle fiere nazionali, una delle quali si celebra proprio a Pergola. Siamo arrivati alla seconda domenica, la prima ci ha dato grande soddisfazione con tanti turisti, tra l'altro tanti arrivate anche dal fanese. E com'è il borsino del tartufo? Tanto che poi alla fine quello solletica molto la fantasia dei gourmet. Quest'anno come si presenta la stagione? La stagione da un punto di vista di profumi ottima, ve lo posso dire proprio perché domenica ne abbiamo avuto la conferma. Dal punto di vista dei prezzi, visto che la quantità, vista l'enorme siccità di questo periodo estivo, la quantità è scarsa, per cui andiamo dai 1.800 euro al chilo fino ad arrivare ai pezzi più belli, intorno ai 5.000 euro il chilo. Ma noi superiamo la difficoltà economica perché l'amministrazione comunale, la nostra città, nella fiera nazionale del tartufo, offre speciali pacchetti cultura e cucina. Quindi indipendentemente dal prezzo del tartufo possiamo dire che è veramente la fiera nazionale del tartufo pregiato che si svolge a Pergola, è una fiera popolare. E questo lo testimonia anche il fatto dei tantissimi espositori che offrono tantissime occasioni ai visitatori di Pergola. 4.000 metri quadrati di esposizione di prodotti tipici di altissima qualità provenienti da oltre 10 regioni italiane. La prossima domenica avremo, quindi la domenica dell'otto, anche rappresentanze di stati esteri e poi 4.200 metri quadrati di fiera commerciale.